dedicata agli estimatori di Luisa Cullio che Arnaldo Andrè non poteva mancare su Lady Channel l'opera esordio di questa grande attrice oh se sapessi quanto sono felice di ascoltarti mio caro zincaro ambientata in un'epoca passata è la storia di un amore intenso e difficile e come hai avuto il coraggio di innamorarti di una donna che non è una gitana quello di Renzo e Dolores brindo alla donna più bella che abbia mai visto nella mia vita io ascoltavo la sua musica dal giardino di casa mia mi sentivo così felice che avevo voglia di cantare e ballare per il resto del giorno vissuto in un'isola incantevole buongiorno signorina Dolores Luisa Cullio Arnaldo Andrè in Amor Gitano con la partecipazione di Giancarlo Simancas mi hai parlato di amore Amor Gitano prossimamente su Lady Channel